Botta e risposta è un punto per parte per Lupafrascati e Vigor Cisterna. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, bravi gli ospiti ad inseguire fino alla fine il pareggio. Parte bene la Lupafrascati, al settimo palla buona sul destro di Parrotta che però non trova la porta in diagonale. Dalla parte opposta a sinistro tutt'altro che irresistibile di un salvi, Montenegri rischia grosso ma se la cava con l'aiuto del palo. La gara si sblocca al dodicesimo, punizione da sinistra sta convincente di gentilezza e Lupafrascati in vantaggio. Passano 5 minuti ed arriva anche il raddoppio, cross basso di Giubbini, pala che filtra e diventa ottima per Sfrigola che controlla e supera Pellorca in uscita. Finale di tempo, di marca ospite, punizione di Bigolin deviata, controllata a terra da Montenegri. Poi proprio al trentacinquesimo, contatto ai danni di Parrotta che l'arbitro non sanziona. La vigora continua a giocare e con salvi è bravo a controllare in area e a mettere a segno il gol che gli apre la gara tra le proteste dei padroni di casa. Ripresa vivace, al quinto punizione in area di Sfrigola, pala che filtra, Montenegri controlla a terra. Ospiti vicini al pareggio al ventesimo, rilancio di Pellorca che diventa un assist per Consalvi, controllo e diagonale che però non trova la porta. Passano 6 minuti ed è Leoni a fallire il gol del 2-2 sotto misura. La lupa torna a farsi vedere con un calcio di punizione dell'entrato Giglio che sfiora la traversa, ma scocca il trentunesimo e la vigore cisterna pareggia. Punizione di Bigolin dritta in porta e nulla da fare per Montenegri. Il gol del 2-2 sul quale si chiude la gara, la lupa resta penultima in classifica per la vigore, un punto che fa comodo nella rincorsa alla salvezza.